E' iniziata la settimana che precede la partita contro il Torino, la prima di due impegni interni consecutivi. Andiamo con ordine il Torino. Sì, è una partita molto importante perché ci giochiamo la salvezza, giochiamo in casa, quindi speriamo di ottenere una vittoria che è mancata un po'. La meritiamo sia noi che i tifosi, quindi cercheremo di lavorare in settimana molto bene per arrivare preparati a questa sfida. Ecco, per te anche una settimana un po' particolare, nel senso che mercoledì sei atteso da un appuntamento molto atteso soprattutto dai bambini. Il mercoledì con i giocatori, così è stato chiamato questo evento, all'Atalanta Store. Sì, mi fa molto piacere andare all'Atalanta Store con i bambini perché loro sono veramente una gioia, vivono tutto come un gioco e spero di trovarne tanti. Allora li vuoi invitare mercoledì all'Atalanta Store? Sì, assolutamente. Mercoledì all'Atalanta Store, vi aspetto numerosi e un saluto a tutti.